ciao benvenuto al mio nuovo canale sono potto tonno i video usciranno ogni settimana ci sarà un nuovo video i giorni sono penso usciranno la domenica perché sarà il mio unico giorno libero con la scuola ma adesso probabilmente due video per una settimana perché perché io sono in quarantena ho risultato positivo al tampone del covid quindi niente sono c'è niente da fare sono chiusa in casa comunque usciranno video a settimana la domenica ore quando può mattina sera notte il pomeriggio ogni ora il gameplay è split gate ed è molto carino io ci gioco da una settimana sono già abbastanza bravo ciao scusate per la cattiva qualità di questo video presentazione ma l'ho fatto di fretta perché ho i compiti delle vacanze da finire li devo consegnare oggi e anche perché devo registrare il gameplay quindi un altro saluto e ciao 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 ciao